bene ciao angeli ciao unicorni e ciao orcobaleni e bentornati in un altro video sempre per la rubrica attivazioni energetiche e potete trovare la playlist qui sotto linkata nel commento in evidenza torniamo a parlare oggi appunto di attivazioni energetiche di qualcosa che vi avevo già anticipato e prendo gli appunti nei video precedenti ovvero Entity il nome completo è Entity Negative Clearing Reiki è un sistema fondato da Lia Fnan e la traduzione come sempre è a cura di Barbara White Fang maestra Feng Shui, radioestesista, operatrice radionica eccetera eccetera ve l'ho già presentata negli altri video quindi non mi dilungo vi lascio i suoi contatti qui giù nel commento in evidenza e nell'info box come sempre è mia amica quindi è una persona affidata ho fatto l'ho fatto operare su di me per anni energeticamente parlando quindi è una persona valida e seria affidabile se vi interessa questa attivazione o le altre contenute nella playlist che vi ho linkato prima quindi tutte quelle precedenti che vi ho già presentato negli altri video è a lei che dovete rivolgervi un appunto perché forse non l'ho spiegato negli altri video e quindi noto che lo chiedete tutti come avviene come avvengono le attivazioni sono semplicissime voi concordate un giorno e un orario con Barbara dura circa mezz'ora l'attivazione dove vi invierà 10 minuti prima un video con un'introduzione una spiegazione e una musica rilassante poi durante quei 30 minuti è lei che opera su di voi voi non dovete fare niente se non stare semplicemente sdraiati occhi chiusi occhi aperti fate come volete potete visualizzare cercare di meditare eccetera potete anche non fare niente stare lì e guardare la tv tanto il canale energetico ve lo apre lei questo lo dico perché molti lo hanno chiesto forse mi ero scordata di spiegarlo nelle altre nelle precedenti attivazioni allora oggi parliamo di entity è un la chiamerò entity anche se il nome più lungo per fare prima ed è una attivazione che serve a proteggere da molte negatività che adesso vi elenco sebbene io abbia già fatto un video ed è quello del drappo bianco dell'arcangelo michele li trovate tutti nella playlist elencata qui sotto ci sono c'è anche quella per attrarre la fiamma per attrarre abbondanza e denaro la spada di michele insomma ne trovate diverse perché ne faccio un'altra per protezione se ho già fatto il drappo bianco di michele perché entity è molto molto più potente secondo me rispetto all'altra non che l'altra non lo sia o che sia inutile anzi io quella di michele l'ho già fatta e i risultati si vedono però questa protegge proprio a cose specifiche per il campo dell'aura che adesso vi vado a leggere per cui penso che sia un uno strumento in più che abbia un come dire un una marcia in più rispetto all'altra quindi se dovete sceglierne una sola io sceglierei questa se vi posso consigliare poi scegliete voi ovviamente ma questa è veramente completa e potente dunque sappiamo tutti che c'è una parte tangibile visibile nel nostro mondo è una parte non tangibile e invisibile ma pur sempre presente che ci influenza come le negatività e i pensieri negativi sono cose tangibili no non le vedete però ci influenzano spesso negativamente anche se non sono pensieri che ci appartengono anche se vengono da altre persone entiti lavora nel campo metapsichico che cos'è che cos'è il campo metapsichico è il campo sottile ed invisibile al quale si accede attraverso l'intuizione cogliendo pensieri atmosfere e sensazioni al di fuori di noi i sensitivi e il medium sono particolarmente in contatto particolarmente sensibili a questo campo ma è una dote che comunque tutti noi abbiamo semplicemente alcuni di noi non sono consapevoli e non la sviluppano quindi bisogna prima essere consapevoli di che cos'è e imparare a svilupparla e imparare quindi ad usarla per difendersi creare infatti uno scudo metapsichico sta nel creare uno scudo quindi una sorta di bolla di protezione intorno al nostro corpo sia fisico che energetico quindi laura che appunto al di fuori del no è la parte energetica al di fuori del nostro corpo fisico per poter filtrare pensieri energie e vibrazioni indesiderate e negative non solo delle persone ma anche dei luoghi perché anche i luoghi hanno memoria energetica come ad esempio poltergeist e anche i luoghi possono influenzarci negativamente che sia il luogo in cui abiti il luogo in cui non lo so passi tempo il luogo in cui vai a scuola il luogo in cui lavori se c'è una brutta negativa se c'è una brutta energia può influenzarvi molto negativamente e io ve lo posso assicurare perché se siete iscritti da un po sul mio canale vi ricorderete il video ormai vecchio del 2017 in cui vi ho detto cosa c'era a livello energetica energetico nella mia vecchia casa e che cosa è successo con la tavola ouija se siete nuovi iscritti perché ho visto che molti vengono da tik tok innanzitutto benvenuti e grazie di essere qui se quindi voi siete nuovi non l'avete visto vi linko quel video dove parlo dell'esperienza con una casa con entità non positive e la mia esperienza con la ouija qui giù nel nel commento in evidenza prendo adesso i miei appunti e vi leggo i punti importanti ovvero la protezione metapsichica come dicevo è importante per noi perché tiene lontano energie ed emozioni indesiderate che anche se non ci appartengono appunto possono influenzarci per esempio se torniamo a casa facciamo finta che siete uno studente tornate a casa da scuola vi mettete in salotto a guardare la tv e per qualche strano motivo anche se a voi non è successo niente di brutto di sbagliato vi sentite agitati vi sentite a disagio in quel punto lì della casa voi venite a scoprire che vostra madre vostro padre qualche ora prima lì in quella stanza ci avevano litigato la memoria energetica è rimasta nel luogo e voi la state assorbendo se voi non siete propriamente schermati e quindi protetti anche le energie del luogo non solo delle persone vi può influenzare negativamente vi si attacca proprio all'aura il modo migliore per evitarle stare sempre allerta ma non sempre c'è possibile e non tutti sono consapevoli consapevoli e non tutti sono in grado perché non a tutti viene spontaneo difendersi non a tutti viene di pensare a queste cose a questo tipo di protezione uno pensa che ma evito quel luogo evito quella persona e basta sono a posto sicuramente fa bene evitarlo ma uno non sempre si può perché al lavoro ci devi andare perché a casa ci devi andare a scuola ci devi andare due non basta comunque appunto si attacca all'aura queste cose alla vostra energia personale per cui ve la portate anche dietro una volta che ce l'avete se non sapete uno schermarvi e due ripulirvi andiamo a leggere innanzitutto diamo una definizione più precisa su cos'è l'aura di cui ho parlato poco fa è un campo luminoso multistrato di energia sottile che circonda il corpo fisico è composto da sette strati e di norma si estende per circa otto metri oltre il corpo fisico andiamo a vedere i vari strati perché entiti appunto protegge tutti questi strati per questo che ve li elenco primo strato corpo fisico secondo strato corpo eterico che collega tutti i chakra inferiori e i meridiani dell'ago puntura terzo strato corpo astrale interno nell'area del cuore c'è il collegamento tra anima materia e corda argentia ovviamente ci sarebbe molto di più da dire per ogni strato e sull'aura c'è un argomento molto più vasto ora io qui sintetizzo molto altrimenti diventa infinita la storia e magari se volete un video sull'aura a parte me lo scrivete facciamo appunto un video a parte quindi se sentite dei termini che non conoscete potete approfondire voi stessi e io adesso appunto vi do solo una visione una visione generica quarto strato corpo fisico ego che deve essere eliminato dominato scusate quinto strato corpo spirituale collega tutti i chakra superiori ogni pensiero attenzione traccia una linea di energia in questo corpo se volete capire meglio questo di concetto potete guardare il mio video dell'anno scorso su oponopono perché il pensiero se collegato a un'emozione crea specialmente se ripetuto crea una un'abitudine quindi un nuovo percorso nel cervello quindi una nuova sinapsi vi linko il video di oponopono qui giù che è una tecnica molto potente anche per eliminare invece pensieri negativi che abbiamo nel subconscio convinzioni autobloccanti eccetera poi sesto strato corpo divino il potenziale spirituale che è proporzionale alla qualità e la quantità di energia di questo corpo fisico settimo strato corpo astrale esterno che è in contatto con il macro macrocosmo esterno anche neanche di questo più o meno ne abbiamo parlato nel video pono pono quando parlo della mente subconscia che è in contatto direttamente con il divino con l'universo con la sorgente vi invito a vedere anche quel video poi ovviamente oltre a laura che cosa protegge entiti i chakra i chakra sono i sette punti energetici principali del corpo non sono gli unici non ci non ce ne sono solo sette sono soli principali e più conosciuti ce ne sono tantissimi altri anche su questo su questo argomento i chakra ho fatto un video vecchio ormai che però trovate qui giù sempre nel link scusate nel commento in evidenza se volete approfondire i chakra quindi a cosa serve ognuno di esso a cosa succede se è sbilanciato eccetera vi lascio quel video lì anche i chakra ovviamente sono importanti perché generano l'energia necessaria per il corpo e per l'aura quindi se essi sono forti anche l'aura è forte se non stanno funzionando nella maniera giusta possono esserci l'aura può essere più debole e possono esserci letteralmente dei buchi certe volte energetici nell'aura dove appunto entrano cose negative che vi si attaccano dall'esterno ogni chakra inoltre collegato al sistema endocrino quindi ad ogni chakra corrisponde una ghiandola del corpo quindi laddove avete qualcosa di attaccato all'aura o un chakra che non funziona bene potete avere anche ripercussioni sul corpo fisico infatti qualunque problema fisico e malattia si manifesta prima nel campo energetico nel corpo energetico e poi nel corpo fisico quindi se fate se proteggete il corpo energetico non arriva quello fisico se ripulite ciò che aveva prima che arrivi nel corpo fisico ciò che avete attaccato al corpo energetico appunto non si manifesta sotto forma di dolori problemi malattie a volte quindi tutto questo per dire ora che sapete più o meno a cosa serve l'aura e il chakra potete anche capire l'importanza di doverli proteggere adeguatamente infatti soprattutto chi lavora nel campo olistico di terapie energetiche o del counseling tende ad assorbire facilmente le forme pensiero negative dai clienti perché ne siede costantemente a contatto ovviamente non solo è anche persone che non fanno questi lavori ora andiamo a vedere nello specifico cosa riesce a fare questa attivazione ovvero che tipo di da cosa ci dà protezione nello specifico forme pensiero che sono entità od oggetti che esistono nel basso astrale e che sono stati portati all'esistenza dalla forza forza del pensiero o delle convinzioni a volte anche nostre o a volte esterne la concentrazione su un'idea infatti o su una paura può produrre una forma pensiero da cui dobbiamo proteggere noi stessi a volte anche da noi stessi appunto poi vampiri energetici questi qui li avete sicuramente sentiti nominari nominare sono quelle persone che assorbono energia da altre persone per alimentare la propria può avvenire a livello energetico emozionale o mentale aggiungo inoltre che ci sono quelli che non sanno di esserlo quindi lo fanno in maniera inconsapevole poi ci sono i bastardi che lo sanno e vi succhiano energia apposta attenzione a queste persone di merda scusate se lo dico poi aspiratori metapsichici questa non la sapevo neanche io chi assorbe le energie le emozioni e i sentimenti e le impressioni di persone luoghi subendo negli influssi negativi spesso cioè sono le persone che assorbono come una spugna poverini e non lo sanno io una volta ero una di queste e purtroppo ne risentite tantissimo anche proprio come stanchezza fisica attacchi metapsichici la focalizzazione o lo sfruttamento intenzionale o involontario di energie mentali o metapsichiche allo scopo di nuocere ad altre persone attaccamenti metapsichici una persona un essere vivo o morto che influenza negativamente qualcuno attraverso un attaccamento aurico si possono attaccare nell'aura anche i defunti le forme pensiero possono attaccarsi a persone e oggetti anche gli stress geopatici possono drenarci quando restiamo per un po per un po in certi posti quello che dobbiamo fare ovviamente evitare questi posti ma laddove non si può bisogna proteggersi delle geo della geopatia ve ne ho già parlato nel video della radiestesia in cui avevo appunto per la prima volta presentato barbara ve lo lascio qui ve lo linko sempre nel commento in evidenza andate a vederlo perché capirete sicuramente meglio quello che sto elencando adesso se andate a vedere anche quel video poi appunto stress geopatico lo stress geopatico è creato dalle radiazioni elettromagnetiche delle ley line cioè le linee di ley flussi sotterranei e simili spesso conosciuto come sindrome da edificio malsano che può avere un'influenza negativa sul sistema immunitario o sulla protezione metapsichica innata del corpo cioè vi può devastare la vostra stessa protezione può attrarre anche entità non fisiche fantasmi o vecchie memorie proprio dello stress geopatico e quindi di tutti i nodi sotterranei energetici della terra ve ne ho parlato nel video appunto della radiestesia approfondite con quello poi penetrazione metapsichica le energie i pensieri o i sentimenti provenienti da un'altra persona che passano attraverso le difese naturali causando danno o svuotamento energetico queste sono le cose che dovete sapere per difendervi efficacemente appunto dagli attacchi metapsichici ed è il tipo di protezione che vi darà appunto questa attivazione ovviamente quando barbara vi attiva vi inserisce un simbolo reiki perché come ho detto si chiama entity negative clearing reiki quindi si avvale del anche questa come quella dell'abbondanza e del successo che vi ho già presentato dell'energia universale reiki se non sapete cosa è reiki ho fatto un video l'anno scorso a riguardo linko qui sotto andate a vederlo dicevo quindi vi inserirà nel vostro campo energetico un simbolo reiki adatto che c'entra con l'attivazione reiki che creerà andrà a creare una dimensione pattumiera spazzatura che è un'area interna o esterna che vibra a una frequenza che inghiotte energeticamente le energie negative trasmutandole in energie positive quindi vi protegge e stacca quello che c'è e ve lo fate conto che sia il cestino sul desktop del pc ecco prende tutti fa il virus e poi ve li sbatte lì dentro e li elimina e li tramuta in energia positiva spero di essermi fatta capire questa attivazione agisce su cinque livelli nei primi quattro le entità o energie negative già presenti nella persona vengono estratte nel quinto livello c'è appunto il simbolo reiki che viene messo in questo caso dall'operatore se voi non siete operatori reiki quindi da barbara viene messo nell'aura e deve e viene usato sui c'è sui sette chakra e sull'aura per per ripulire il tutto quindi in parole povere questa attivazione vi protegge crea uno scudo protettivo che va a proteggere la vostra aura il vostro corpo fisico i vostri chakra da tutte le cose che ho elencato poco fa quindi tiene serve anche per purificare gli spazi l'aura i chakra eccetera ed essere liberi quindi da influenze negative per sempre in quanto esse non possono ritornare una volta pulite così il simbolo reiki che vi sarà dato lo potrete mettere volendo anche sul vostro telefonino per pulire le chat o le conversazioni oppure per ripulire il telefono dalle negatività si può stamparlo e metterlo attaccarlo anche in casa in auto o portarlo in borsa o piccolino dentro al portafogli ed è un simbolo che vi proteggerà sempre quindi per diciamo protezione giornaliera tutti i giorni una volta che siete attivati la mattina voi visualizzate nella mente il simbolo lo visualizzate nella vostra aura e pronunciate nove volte il suo nome per attivarlo in questo modo sarete protetti tutto il giorno così trattate appunto voi stessi la sera potete ripetere la procedura di visualizzarlo e pronunciare il nome nove volte per essere protetti durante la notte e se pensate di essere vittime di un attacco metapsichico tratterete la vostra area del cuore e tutte con il simbolo e tutte le negatività che avete accumulato se ne andranno un'altra cosa che potete fare per un corretto funzionamento dei chakra è visualizzare il simbolo su tutti i chakra prima di andare a dormire che è un'ottima pratica bene spero vi sia piaciuta spero di avervi incuriosito spero vi sia utile se la volete ricevere l'attivazione sapete che il link di barbara i suoi contatti sono giù in info box ho voluto parlarvi di questa di attivazione nonostante io cerco di farne una per ogni tipo quindi una sull'amore una sul denaro una la protezione uno il karma e così via avevo già fatto quella del drappo dell'arcangelo michele che è già una protezione di per sé però non lo so ho sentito che dovevo parlarvi anche di questa perché io la sento molto più potente dell'altra e non è non vuole essere un'offesa per l'arcangelo michele ovviamente semplicemente agiscono in due maniere in due campi differenti laura è un una cosa che spesso noi ci scordiamo che come posso dire la non ci pensiamo molto a proteggerla invece spesso è proprio lì che c'è più roba negativa attaccata col fatto che gli umani tendono a non dare importanza a ciò che è invisibile non si vede e invece sono le cose più importanti perché uno gli attacchi peggiori sono invisibili due è proprio la parte esterna al corpo fisico che ci protegge se quella è deteriorata se quella non funziona correttamente dopo tutto il tutto penetra appunto a livello del corpo fisico e lì si creano anche malattie quindi secondo me se dove mio consiglio personale se dovete scegliere una sola attivazione di protezione io direi entiti secondo me è la migliore perché è proprio agisce ad ampio spettro più ampio di quello dell'arcangelo michele secondo me diverso invece la spada dell'arcangelo michele che sono tagli con cose vecchie anche quella utilissima io l'ho fatta bene lasciatemi un commento ditemi se vi piace se la farete il link ce li avete giù lasciatemi un mi piace perché aiuta il canale e l'algoritmo iscrivetevi attivate la campanella se non l'avete già fatto la prossima non mi sono scordata è per chi l'ha chiesto sarà quella dello sgancio del karma poi mi fate sapere quale volete voi su quale argomento voi proponete che io ne ho tantissime barbara ne ha tantissime quindi io ne ho una per ogni argomento voi chiedete chiedete vi sarà dato o anche quella della griglia dell'occhio d'oro o a un'altra potente quella black magic dice già il nome di per sé spiega bene su cosa agisce ovvero toglie proprio magia nera di qualunque tipo a prescindere dal credo che sia voodoo che sia non lo so asiatico che sia europeo quella vi va a togliere anche la magia nera più pesante più brutta mi fate sapere quale volete insomma spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo un prossimo video vi mando un bacione a presto